Riapre il Museo del Motore a Scoppio, che ha sede nell'antica loggetta dei Guinigi, in via Sant'Andrea, nel centro storico di Lucca. Fortemente voluta dalla Fondazione Barsanti e Matteucci, la gestione del museo è stata affidata alla Cooperativa Temp e alla sua agenzia di viaggi di incoming, segni di viaggio, che si occuperanno della biglietteria e dell'attività didattica, coinvolgendo soprattutto gli istituti tecnici e i licei scientifici, nonché tutte le scuole interessate a scoprire il museo, le facoltà universitarie di ingegneria e le case automobilistiche italiane e straniere. Il Museo del Motore a Scoppio ospita un'affascinante riproduzione dei motori studiati e inventati da padre Eugenio Barsanti e dall'ingegner Felice Matteucci, i quali a partire dal 1851 unirono le proprie competenze con l'obiettivo di realizzare un motore che fosse più pratico della macchina a vapore, utilizzando l'esplosione di una miscela gassosa in grado di produrre movimento. Questo museo, oltre a contenere tutta la documentazione, contiene i modelli e i motori fatti nei vari anni dai due scienziati lucchesi. Il museo vuole diventare un punto di riferimento in Italia e all'estero per la divulgazione della paternità dell'invenzione e quindi per la valorizzazione del genio lucchese.